Musica Si accende il dibattito nel Calatino sull'Imu Agricola. Una tassa, che se dovesse essere applicata nei termini in cui è stata proposta, rischia di dare il colpo di grazia a un territorio a forte tradizione agricola come il Calatino, già fortemente depresso per via della crisi in cui versi il settore, aggravata dalle ricorrenti calamità naturali. Alcuni segnali allarmanti già si avvertono. Molti proprietari che stanno decidendo di vendere a prezzi incongrui le loro terre perché l'attività non è più redditizia, ma è fonte di indebitamento. Il rischio è che si torni indietro di anni quando le terre erano nelle mani di pochi latifondisti. Non chiari sono inolti i criteri per cui un comune viene definito montano. Nel Calatino, ad esempio, Vizzini con 586 metri di altitudine rientra nella categoria dei comuni totalmente montani e dunque tutti i terreni sono esentati della tassa. L'Ico di Eubea, con 600 metri, è definita parzialmente montana, per cui sono esenti i terreni posseduti, coltivati o condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali. Caltagironi, invece, che vanta 608 metri di altitudine, non è montano. Tutti i terreni agricoli sono soggetti alla tassa. La logica paradossale che se ne deduce è che più in basso sta e più montano sei. Anche il Vesco di Caltagirone, Monsignor Calogero Peri, ha preso l'iniziativa in questi giorni e venerdì 27 febbraio ha raccolto attorno a un tavolo i sindaci del comprensorio per discutere del problema. Hanno risposto all'appello i comuni di Dicodia, Eubea, Mazzarone, Militello, Palagonia, San Michele di Ganzaria e Scordia. Auspico ha dichiarato il Vesco che nel provvedimento vengono introdotte misure di tutela anche per le aree rurali e per quelle più disagiate del paese, oltre che per i territori montani. La pressione fiscale, ha aggiunto preoccupato Monsignor Peri, rischia di diventare un ostacolo concreto per molte famiglie, oltre che allo sviluppo, alla creazione e alla rigenerazione delle imprese, in un settore fondamentale per la ripresa economica, in particolare per il Sud Italia e per le aree depresse come il Calatino. Ieri in Consiglio Comunale avrebbe dovuto essere presentata e discursa una mozione che ha come primi firmatari i consiglieri Sergio Domenica e Luca De Caro e che è stata sottoscritta da quasi tutti i gruppi presenti nella Sise Comunale. Questa sera in Consiglio Comunale cercheremo di trattare la mozione presentata da noi, proposta da noi, ma subito partecipe a tutti i colleghi di quasi tutte le forze politiche che hanno aderito sinceramente e molto positivamente a questa cosa. Io ringrazio le forze politiche che hanno deciso di sostenerci in questa battaglia perché sentivamo l'esigenza, soprattutto il dovere morale, di intervenire su un problema così grande e complesso. Non c'è dubbio che il Consiglio Comunale, le forze politiche e soprattutto noi consiglieri comunali che siamo stati eletti democraticamente dai cittadini di Caltagirone, dobbiamo immediatamente dare supporto agli agricoltori, ai nostri concittadini che hanno bisogno davvero di essere sostenuti in questa delicata battaglia perché oggi l'agricoltura è fortemente danneggiata già dalle calamità naturali. Questa tassa ancora una volta che è stata calata dall'alto, ancora una volta con le decisioni del governo Renzi, non c'è dubbio che va a delineare ancora una volta una spaccatura nel cedo sociale. È una cosa molto delicata, l'agricoltura non può sopportare questo ulteriore masso. Ancora una volta ritorniamo accanto agli agricoltori per dire noi ci siamo, non ci fermeremo in questa battaglia, faremo sentire fortemente la nostra voce e passare questo documento a tutti i consigli comunali che vorranno farne parte, vorranno aggregarsi a questa iniziativa. Hanno cambiato i requisiti, l'Immo sull'agricoltura già esisteva, hanno cambiato semplicemente dei criteri di applicazione, hanno fatto sì che per esempio il Comune di Caltagirone ricadesse in pieno nel dover pagare quest'Immo. Tra l'altro ricordiamo che è una tassa che si dovrà pagare, fondamentalmente è una tassa patrimoniale che si dovrà pagare sia se gli agricoltori avranno un buon raccolto o se ce l'avranno negativo. Quest'anno si rischia di pagarla due volte perché a gennaio si deve pagare quella 2014 e a giugno probabilmente si dovrà pagare quella 2015. È una tassa che adesso va ad annientare, annullare i benefici che invece gli incentivi europei hanno, danno proprio alle zone come le nostre che hanno bisogno di avere un sostegno. Quindi da un lato l'Europa ti inizia a dare, ti dà qualche finanziamento per finalmente sviluppare il contesto di qualità dell'agricoltura, dall'altro il Governo nazionale inspiegabilmente a gennaio ha cambiato questi criteri. Chiediamo e speriamo che ci possano essere davvero invece una presa di coscienza molto forte, come del resto abbiamo visto qui a Caltagirone dove difficilmente quasi tutte le forze politiche, forse soltanto una forza politica ad oggi non sostiene questa nostra mozione, speriamo che la Sicilia possa iniziarsi a mettere in ogni realtà comunale, possa iniziare a uscire forte il no a questo metodo di amministrare che è soltanto un metodo contabile e non un metodo invece che punti allo sviluppo. Speriamo che il Governo anche regionale possa farsi promotore di un'iniziativa forte e chiederemo se riusciremo a avere la fortuna di trattarlo oggi ma a breve anche al nostro sindaco di potersi fare promotore con tutti gli altri sindaci per andare dal prefetto che è la massima rappresentanza dello Stato per iniziare a dire forte e dichiarare forte il nostro no a questa assurda tassa iniqua. Ma il Consiglio non si è tenuto perché per due volte è mancato il numero illegale. Alle 9.20 dopo che c'era stato un primo rinvio di un'ora non rientravano in Auli i consiglieri del nuovo centrodestra che si erano riuniti in una strada attiva all'Aula Consigliare. Il Presidente Giuliano, constatata la presenza di soli 15 consiglieri, scioglieva la seduta e la rinviava ad oggi. Il gruppo del nuovo centrodestra, che non ha firmato la mozione domenica De Caro, è rimasto chiuso in riunione anche dopo che tutti avevano lasciato Palazzo dell'Aquila. Grazie per la visione!